Parliamo di un Consiglio Comunale, questa volta in forma mini. Sicuramente un Consiglio Comunale dei ragazzi. Vedete, noi crediamo che sia fondamentale creare una cultura della politica e del governo della città. E quindi iniziamo a farlo con i ragazzi, perché saranno poi coloro che governeranno nel futuro le nostre città, il nostro territorio italiano. E quindi crediamo che sia importante infondere loro anche quella sensibilità che è necessaria, quindi quella trasparenza, quell'onestà intellettuale che c'è bisogno nella politica. E quindi è chiaro che in questo senso noi lo facciamo perché crediamo che negli anni vi sia stata poca sensibilità da parte degli amministratori che ci hanno governato. E allora crediamo in questo senso, e quindi è il vocabolo che, ma soprattutto ciò che noi vogliamo portare amanti, che è di avere a che fare con gente che dica soltanto la verità. La verità è noi un cavallo di battaglia su cui stiamo puntando, perché dal primo momento su di me, e tra l'altro sulla mia amministrazione sono state dette solo bugie. Noi riscontriamo tutto questo con i fatti, con i dati, con quelli che sono gli atti e le delibere che vengono pubblicate anche da tutti i comuni. E in questo mi riallaccio anche alla polemica che in questi giorni sta venendo fuori su quelle che sono le aliquote IMU, che il comune di Avola ha applicato. E facilmente, a portata di tutti, basta aprire i siti dei comuni della provincia di Siracusa per fare le differenze e riscontrare quelle che sono le aliquote applicate dal comune di Avola e le aliquote applicate dai comuni della provincia di Siracusa. Sarà facile riscontrare che nell'anno 2012, l'anno scorso, il comune di Avola, quindi la mia amministrazione, ha ridotto le aliquote per la prima casa, per le attività agricole, per le strutture ricettive. Abbiamo mantenuto quindi un profilo basso per aiutare tutti coloro che hanno risentito della crisi. Sarà anche facile riscontrare che nel 2013 vi è un'applicazione delle aliquote ordinarie e quindi non vi è un aumento rispetto a queste, quindi a quelle che sono il riferimento che lo Stato ci dà. E in questo caso potete anche riscontrare che stiamo agevolando rispetto alle altre città, le attività commerciali, professionali, artigianali, tutte le nuove attività che si andranno a creare per fare in modo che si possa in questo momento dare un abboccato di ossigeno a quelle che sono le attività che stanno risentendo maggiormente della crisi. Tutto il resto noi lo rimandiamo ai mittenti e diciamo anche che le bugie hanno le gambe corte. Siamo disponibili a qualsiasi confronto pubblico perché le carte non possono essere smentite, sono sotto gli occhi di tutti e quindi anche un confronto che ben venga per il PD, Santuccio, Passarello, chi voglia, chiunque. Noi siamo disponibili ad un confronto pubblico, sereno, domani alla televisione, in piazza, dove volete voi, perché vedete le bugie non possono essere osate per fare confusione e quindi creare confusione tra i cittadini. Noi abbiamo bisogno di trasparenza, abbiamo bisogno di verità, purtroppo siamo stati governati da gente che ci hanno imbrogliato, vogliono continuare a mentire, questo non è più ammissibile. C'è un momento invece in cui dobbiamo incominciare a pensare a come trovare le soluzioni per governare le nostre città, per uscire da questa crisi, per uscire da un pantano e per farlo c'è bisogno di correttezza, di onestà e di solidarietà. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare, da circa 11 mesi che noi stiamo facendo questo e il nostro obiettivo è quindi cercare di far comprendere il nostro lavoro e soprattutto lavorare anche, perché vedete l'Imu non è qualcosa che ci appassiona, a noi ci interessa governare per trovare le soluzioni, le infrastrutture, creare le condizioni per il lavoro, a noi ci interessa che si possa trovare un benessere sociale e una felicità che è quella che tutti noi ricerchiamo. Le tasse sono odiose, noi siamo contro le tasse e questo purtroppo è anche uno Stato che in questo momento ci sta mettendo nelle condizioni, noi sindaci tutti, di essere la mano lunga dello Stato per risolvere quello che è il debito pubblico che è stato creato negli anni. Ma in questo senso Avola, quindi la nostra amministrazione, sta razionalizzando le spese, stiamo cercando di tagliare ovunque per fare in modo che i cittadini possano essere meno gravati possibile. Dunque nessuna polemica? Non ho intenzione di fare nessuna polemica perché quando si parla di dati oggettivi e quindi non possono essere opinabili, su questo non abbiamo da polemizzare, sono semmai gli altri che non vogliono ammettere il nostro operato e che da 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi continuano a mentire alla città e continuano quindi a fare confusione. A noi interessano invece i dati oggettivi perché vogliamo essere trasparenti e chiari.